Previsioni meteo per mercoledì 17 giugno. Al nord residua instabilità nella prima parte del giorno con ancora piogge temporali ma con tendenza a miglioramento dalla serata con schiarite via via più ampie. Al centro ancora maltempo con piogge temporali sparsi in particolar modo tra dorsale ed adriatiche in assorbimento dalla serata. Al sud tempo in peggioramento con piogge locali temporali in marcia da nord verso sud eccetto che sulle ioniche. Venti tesi da nord ovest in rinforzo da nord est. Mari mossi o molto mossi. Temperature per lo più stabili o in lieve flessione.